Cari amici, vorrei ringraziare tutti voi non solo per questa settimana, ma per questi otto anni dove avete portato con me, con grande competenza, affetto, amore, fede, il peso del Ministero Petrino. Rimane in me questa gratitudine e anche se adesso finisce l'esteriore visibile comunione, come ha detto Cardinal Ramasi, rimane la vicinanza spirituale, rimane una profonda comunione nella preghiera e in questa certezza andiamo avanti, sicuri della vittoria di Dio, sicuri della verità, della bellezza e dell'amore. Grazie a tutti voi.